Io non dimentico Ciao mercenario, godetti le tue champions Per lo stesso motivo per cui Neymar ha lasciato il Barcellona, una coppa che di adrenalina, ci eccita A poco più di un mese di distanza da questa dichiarazione rilasciata al sito della FIFA, Dani Alves saluta la coppa dalle grandi orecchie Una lezione impartita dal Real Madrid al suo PSG Una sconfitta, dopo il 3-1 dell'andata, nata da un suo errore Grave, molto grave Perci ha tolto morale e coraggio ai compagni di squadra che, sullo 0-0, ancora speravano nella grande rimonta Ma che combini, Dani, minuto numero 6 della ripresa Vetsk smette in mezzo un pallone delizioso dalla zona sinistra del campo Ronaldo schiaccia di testa e supera a Reola Il Madrid passa in vantaggio Ma come era nata l'azione? Pochi secondi prima Dani Alves, in fase di impostazione dell'azione, aveva perso banalmente un pallone sul disturbo da parte di Asensio E non tutto, il giovane fenomeno del Real si permette anche di fare un tunnel al brasiliano quando serve il pallone in profondità Il Real continua a volare in Europa, conquistando anche Parigi Il web non perdona, a fine gara si scatenano messaggi e tweet Tanti attaccano il brasiliano, altri lo sbeffeggiano, suggerendogli di, provare la prossima volta Alcuni, bianconeri feriti ma imparziali, difendono l'esterno destro, in nome di un passato in cui ha alzato la Champions League per tre volte E voi a chi date ragione? Dani Alves, Juve, ambizione e organizzazione meglio qui